Sesta corsa al Cirigliano di Aversa, premio realizzatore. Non corre il 5A, Vantoppi, restano in 12, 5 in prima fila, 6 in seconda ed uno in terza. Una condizionata per anziani sulla distanza del doppio chilometro, anziani di 7 anni ed oltre. Su Angelica c'è Vincenzo Luongo in sostituzione di Antonio Esposito, 90. In prima fila Zivago Gifar, Zulu Egral, Verdune Jet, Zelinda Del Ronco e Aliante Ido. In seconda Ubic Par, Zirconio CR, Attila Dino Angelica, Tony Pride e Argo Del Ronco. Terza fila per Zorever CCSM. Problemi per Ubic Par in fase di allineamento. Zelinda Del Ronco attacca Verdune Jet al suo interno. La leva di Fierro assume il comando all'imbocco della prima curva. Nei confronti dello stesso Verdune Jet e di Zivago Gifar, a largo Zulu Egral. Verdune Jet si presenta su Zelinda Del Ronco. Lancio in 14. Sta sfilando a condurre Verdune Jet e tiene ritmo sostenuto. Primo quarto ultimato in 29.4. Verdune, Zelinda, Zivago Gifar e Attila Dino formano il treno interno. Per linea esterna, Zulu Egral risale e giunge all'altezza del Salchi del Battistrada. 44.8.600. Ritmo sostenuto. Attila Dino ha abbandonato la corda e va in scia a Zulu Egral. Primo giro in 59.5. Ritmo che si mantiene sostenuto. Frustino avanti per Verdune Jet. Zulu Egral continua il suo percorso. Nasino al vento seguito da Attila Dino, poi Alianteido ed Angelica. Primo giro addirittura, primi mille metri addirittura in 1.14.5. 800 alla conclusione. Verdune Jet, avvicinato da Zulu Egral, lungo i paletti Zelinda, dalle retrovieri sale Angelica. 600 al termine, frazione in 15.7 in curva, terza ruota per Attila Dino, che dà la scia ad Angelica. Sposta dalla corda Zelinda del Ronco. Trova Varchi, utilizzo Reversi CSM, miglio in 2.2. Sta passando Zelinda del Ronco, inseguita da Zivago Gifar. Poi il galoppante Attila Dino. Trova da correre adesso Zoreveri CSM, che va sui primi due. Muove anche Argo del Ronco, Zelinda del Ronco in vantaggio, Zivago Gifar l'attacca. E sul traguardo perfettamente apparigliati Zelinda del Ronco, Zivago Gifar ed Argo del Ronco. Arrivano in tre su di una linea. Molto vicini Zelinda, Zivago Gifar ed Argo. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.15.8 per chi vince, ma è difficile stabilirlo. Forse Zelinda del Ronco conserva un minimo vantaggio su Zivago Gifar ed Argo del Ronco. Potrebbe essere questo l'arrivo probabile ed ufficioso 4-1.12. Ma bisogna attendere l'esito del photo finish. Le decisioni del giudice d'arrivo, in quanto i tre sono molto vicini. Potrebbe essere il successo di Zelinda del Ronco ed Ivano Fierro per i colori del signor Francesco Pironti ed il training dello stesso Ivano Fierro.